Aya Gaia è un gioco dai 3 agli 8 giocatori dai 6 anni in su della durata di circa 30 minuti a partita in questo gioco andremo a creare la nostra fattoria personale ad ogni turno giocheremo una carta davanti a noi ma per attivarne il potere dovremo imitare il verso di quell'animale conigli, maiali, pavoni, cacche si c'è proprio tutto in questa fattoria quando scenderà la sera il giocatore con Aya più Gaia sarà il vincitore ma come fa la talpa? buona giocata a tutti